Trone, via alla ricerca. Emma Child ha appena attivato un collegamento sicuro via Optic con il segretario di Stato. È l'occasione per ottenere le prove che il TETSEC non ha niente a che fare con gli attentati. Avvicinati al veicolo, devo inserirmi nella comunicazione. Ti sto inserendo nelle comunicazioni di Emma Child, guida con disinvoltura. Parla il direttore Child, codice KiloAlfaKilo711. Codice e impronta vocale confermata. Lei è su una linea sicura con gli affari interni, direttore. Un attimo, signor segretario. C'è un'anomalia nella comunicazione. Forse non è niente, ma è meglio cambiare canale. Che rottura. Non allontanarti, cerco di recuperarli. Stiamo riassegnando risorse al caso TETSEC. Signor segretario, era mia intenzione sottoporle direttamente questo problema alla luce della recente vicenda della portavoce. Oh, mio Dio. Pensi che ci fosse di mezzo il DETSEC? Credevo che l'unico responsabile fosse il tuo pupillo, Malik, giusto? Già, il punto è quello, signor segretario. Abbiamo nuove prove che suggeriscono una collaborazione tra Malik e il DETSEC. Cristo santo, Emma, è un disastro! È tutto sotto controllo. Merda. Scusa, Tom, ma dobbiamo cambiare canale di nuovo. Oh, la cospirazione sale fino ai piani più alti. O poco ci manca. Non allontanarti, ci siamo quasi. Progettando nuova tecnologia per promulgare la vita e per ampliare le capacità dell'essere umano. Devo dire che sembri davvero innamorato di Skylarse. Non faccio commenti, ma posso dire che sono un grande fan del suo lavoro. È una delle persone che più ha trasformato il mondo intorno a noi. E osservare il suo lavoro da lontano è davvero straordinario. Perché le tecnologie che ha sviluppato ci hanno cambiato la vita per non parlare di quanto Bugley abbia aiutato in modi incredibili l'intera umanità. Ti ho mai detto di quella volta in cui l'ho intervistata? Ah sì? Pensavo non avesse mai parlato con i media. Beh, è successo molto tempo fa, quando era un po' più disponibile. Era... era una di quelli... E in che senso? Sarebbe tutto sotto controllo, Emma. Qualcuno dei loro sta hackerando il sistema di comunicazione della mia auto. È la ragione di tutte le anomalie. Eppure sei stranamente calma. Non sono una principiante, Tom. Io non sono nell'auto. È un'esca. L'auto trasmette un segnale che sta indicando ad Albion dove convergere, proprio mentre parliamo. Presto avremo con noi un membro del DedSec. Questa volta sono stato io a disconnettermi. Ti conviene sparire? Che si impegna a fondo per cambiare il mondo che ci circonda e renderlo un posto migliore. Sì, è un'esca. Ciao.